Per i giovani assetati non solo di cocktail super alcolici ma di musica, cultura, spettacoli e performance artistiche, il mese di agosto sarà un mese ricco di occasioni. Tutto questo sarà possibile grazie all'associazione Work in Progress che in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna ed il Comune di Fano ha allestito un fitto cartellone dando il via ad una nuova avventura culturale, il Work in Progress Festival. 30 giorni di eventi, concerti, visite guidate per un teatro che sia sempre aperto alla cittadinanza, oltre che alle nuove esperienze e soprattutto ai giovani. In perfetta linea con la mission che si era prefissata a questa gestione del teatro si inda il suo insediamento. Io l'ho trovato veramente molto interessante e anche pieno di spunti importanti e interessanti che faranno discutere, ma per noi questa è la vita, insomma, è l'ossigeno di tutti i giorni e soprattutto, lo sapete, noi lavoriamo con il cuore e questo per noi è tanto. Un mese di agosto importante per il cuore della città animato anche da vacanzieri e turisti e dove un teatro aperto e vivo culturalmente gioca un ruolo principale nella proposta d'accoglienza della città. È un esperimento interessante perché si cerca di costruire un ulteriore polo attrattivo in città, dopo bastione, rocca, esercizi privati che comunque si rivolgono a giovani con altre proposte, in modo tale che giovani, io direi anche meno giovani, perché il programma ha delle sfumature interessanti, soprattutto per un teatro che parla della contemporaneità. Artisti di caratura internazionale provenienti dagli Stati Uniti d'America o dalla Francia, ma molto dal tessuto underground italiano, mai esibiti a Fano prima d'ora, con DJ di fama o pianisti di grande talento e proiezioni cinematografiche. In collaborazione con il cinema Politeama animeranno palcoscenico, foyer e portici, con una confermata attenzione anche per i più piccoli con i giovedì in piazza, tutti dedicati a loro. Beh, è sicuramente più stimolante perché è un posto nuovo, quindi le cose nuove sono sempre più stimolanti, quindi partiamo con tanto entusiasmo, come sempre, e speriamo di fare qualcosa di bello per la cittadinanza e speriamo di accontentare un po' le esigenze di tutti, come proviamo sempre, dai bambini agli adulti ai ragazzi soprattutto, quindi qualcosa di sempre più bello e sempre più nuovo e innovativo. Vento alla disposizione non solo di queste città.